Le buche quando piove si aprono sempre di più, sempre di più. Sti signori che vengono a chiudere le poretti non ci riescono più a chiudere perché quando ripiove si riaprono subito queste buche perché tanto oramai non tiene più, qui bisogna solo asfaltare. 150 metri di strada che sembrano essere stati bombardati. Buche profonde, ampi solchi ed estesi cedimenti della sede stradale, nonché pozzanghere che in caso di pioggia abbondanti assomigliano molto di più a un piccolo laghetto. A portarci a conoscenza di questa situazione, in uno sperduto angolo di città, sono i residenti e i frequentatori degli orti per anziani che quotidianamente usano questa strada in località Belgatto. È, o meglio era, una strada secondaria che corre parallela alla strada principale, la provinciale 45. Era, perché da quando sono terminati i lavori della 14, è la strada che porta obbligatoriamente al cimitero dell'Olivo. Ogni giorno, quindi, centinaia di auto la percorrono in un senso e nell'altro, compresi i mezzi delle compagnie funebri, i mezzi pesanti ed anche il tram che porta i visitatori al cimitero, con diverse decine di corse al giorno. Lo stato precario dell'asfalto è dunque peggiorato. I rattoppi degli interventi di manutenzione straordinaria non reggono più e quindi i residenti chiedono un intervento urgente. Speriamo che lo metta nel programma il sindaco di farli venire a far sfatare questo pezzettino di strada, perché sono 200 metri di strada.